Orgine del giorno del generale Enrico Caviglia, alle loro eccellenze comandanti di corpo d'armata, agli ufficiati, alle truppe tutte dell'armata, sento il dovere di chiedere che mantengano il loro animo all'altezza della situazione. Tutto il popolo italiano guarda in questo momento a noi, cui sono affidate in quest'ora le sorti della pace. La storia dell'Italia futura, forse per un secolo, dipenderà dalla fermezza e dal servore cui saranno capaci nelle prossime 24 ore di anni minori. È necessario che il maggior numero possibile di unità bastino sulla sponda sinistra del fiume. È necessario che le strutte che si trovano oltre piano attacchino violentemente, tentando con ogni ardore al raggiungimento degli obiettivi precedenti. E l'Italia è enorme, noi dobbiamo ubbidire. 28 ottobre 1918, ore 14. La storia dell'Italia è stata una sponda sinistra del fiume. La storia dell'Italia è stata una sponda sinistra del fiume. La storia dell'Italia è stata una sponda sinistra del fiume. La storia dell'Italia è stata una sponda sinistra del fiume.